Stamattina vogliamo parlare di argomenti importanti mentre siamo ritornati in diretta, temi che sono a noi vicini, nello specifico il tema della solitudine digitale e della scuola, siamo nel pieno delle vacanze ma l'apertura delle lezioni, delle scuole si avvicina e dunque vogliamo approfittare della disponibilità del dottor Jacopo Koghe, portavoce di Provita e Famiglia che è collegato con noi, per parlare di questi argomenti importanti. Buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora dottor Koghe, partiamo dal tema della solitudine digitale, ecco può sembrare, non so, anche uno simoro potremmo definirlo così, perché parlare di solitudine, parlare di digitale, quando ciascuno di noi ha dei profili social che lo collegano a migliaia di persone, può sembrare un po' stridente. Eppure il garante della privacy nei giorni scorsi ha lanciato un allarme importante, perché sono tanti gli adolescenti che pur avendo migliaia, centinaia di migliaia, e addirittura qualcuno, milioni di follower, è tremendamente solo. Allora le chiederei di parlarci di questo tema così importante, del perché va affrontato in maniera decisa rispetto al passato. Sì, grazie per la domanda, è un tema interessantissimo che stiamo seguendo negli ultimi due anni, soprattutto dopo la pandemia, è aumentato il numero degli smartphone, dei tablet, dei device, quindi potremmo dire, è aumentato il numero dei ragazzi che ne fa uso, è aumentato il tempo che i ragazzi passano davanti a questi device, e in tutto questo però, anche a causa di questo uso continuativo, sono nate delle problematiche. Quindi il fatto, come diceva benissimo lei, che questi ragazzi oramai attraverso i social network hanno moltissimi magari connessioni, ma in realtà sono semplicemente soli, perché veicano i loro contatti, le loro omicizie attraverso uno strumento terzo. E quindi questo non permette di essere loro, in realtà, quello che sono veramente, non permette di avere un contatto vis-à-vis, un contatto empatico che li mette in relazione. Quindi potrebbe sembrare che hanno relazione con molte persone, ma in realtà sono ragazzi che molto spesso si trovano a essere soli. Non solo, è importante anche denunciare quali sono le conseguenze dell'utilizzo di questi device da parte dei ragazzi, soprattutto per il loro sviluppo neuronale, perché l'utilizzo di questi device porta i ragazzi ad avere anche molto spesso disturbi dell'apprensione. Vi faccio notare una cosa semplicissima e basilare, pensate solamente ai social network, a questo gesto del dito di andare in su per scorrere timeline o andare a destra e sinistra. Passare da un'immagine all'altra, questo genera nel cervello la dopamia, che è un sistema di appagamento del cervello, è un sistema di piacere, e che ogni 3-4 secondi deve portare a un nuovo piacere, a una curiosità nuova. E questo comporta nei ragazzi dei disturbi dell'attenzione, perché oramai non sono più in grado di stare fermi fisicamente, avere un confronto anche, avere una lezione frontale, e stare più di qualche minuto con l'attenzione fissa su un determinato argomento. Stiamo seguendo con molto interesse una proposta di legge per evitare l'uso dei social network per i minori di 14 o 16 anni, e stiamo facendo veramente molto per poter informare i genitori, per aiutare a evitare conseguenze che siano dannose per il fisico e per la mente dei propri giovani, perché è importante che i genitori stiano dietro ai loro ragazzi, diano dei tempi che siano contingentati per utilizzare lo smartphone, e venga ritardata la consegna dei smartphone ai ragazzi, non a 7, 8, 10 anni, ma a 14, 15, 16. Capisco che è una cosa difficile, ma sicuramente ne va del benessere dei nostri figli. Ecco, è importante chiarire anche che non si chiede di proibire l'uso dei telefonini, dei social, che sono uno strumento importantissimo, perché sappiamo bene quanto bene hanno fatto e quanto bene anche fanno, ma c'è ovviamente un punto oltre il quale non si può andare, soprattutto per i minori, lei lo ha sottolineato in maniera molto decisa, cioè il fatto che i minorenni, purtroppo assistiamo, abbiamo anche visto notizie di cronache importanti, che anche attraverso l'utilizzo di challenge, cioè queste sfide che portano all'inverosimile il carattere di una persona. Ecco, hanno... Se posso aggiungere il problema è questo, cioè noi stiamo dando uno strumento, una chiave, un passpartout che apre a dei mondi che i ragazzi non sono pronti ad affrontare, per questo è pericoloso e semplicemente bisogna darli in mano ai ragazzi che sono nel momento in cui loro sono formati e in grado di poter valutare tutti questi mondi, valutare tutti questi accessi. Ed è importante ovviamente anche, e ci ricolleghiamo al secondo tema di questa nostra chiacchierata, il ruolo sì dei genitori ma anche della scuola, perché ovviamente da questo punto di vista le istituzioni scolastiche rappresentano, come dire, un baluardo importante, si parte dalla famiglia, si arriva alla scuola, ma noi sappiamo che purtroppo la scuola non sta attraversando un bel periodo in Italia, giusto? Sì esattamente, io voglio ricordare sempre, mi prego molto questo, il fatto che la scuola riceve la delega da parte dei genitori, i genitori sono i primi educatori, noi come associazione, come Ollus, ci battiamo moltissimo per la libertà educativa dei genitori, perché anche secondo la nostra Costituzione l'educazione è in capa ai genitori, i genitori poi in un secondo momento delegano la scuola per istruire i loro figli, quindi è importante che i genitori siano e restino sempre i protagonisti dell'educazione dei loro figli, troppo spesso negli ultimi anni i genitori hanno firmato una delega in bianco nei confronti della scuola, pensando che bastassero quelle ore alla scuola per i ragazzi, per formarli, per istruirli, ma oggi non è più così, oggi è necessario un nuovo, un rinnovato impegno da parte dei genitori, all'interno delle istituzioni scolastiche, all'interno di tutti ci sono una serie di strumenti che i genitori possono utilizzare, perché cosa accade? Molto spesso la scuola sta diventando un luogo di ideologia, un luogo di indottinamento, pensiamo noi all'indottinamento sull'ideologia gender, su questi corsi che si spacciano per corsi a rispetto, a corsi a bullismo e poi vanno a insegnare ai nostri figli invece che non si nasce maschio e femmina o quantomeno si nasce maschio e femmina e si può scegliere tra infinite sfumature di identità di genere, quindi io Jacopo, maschio uomo potrei identificarmi come donna, transgender, bigender e quant'altro, e questo viene insegnato ai nostri figli, sin dall'elementare, non lo dico per fare terrorismo psicologico lungi da me, perché anche io ho dei bambini e quindi non è mia intenzione, però è necessaria una rinnovata attenzione da parte dei genitori affinché siano correttamente informati di quello che avviene nelle classi dei loro figli. È un loro diritto e devono pretendere informazione con la gentilezza, la calma, il rispetto possibile, ma devono essere informati su ogni dettaglio del tipo di istruzione, del tipo di corsi che vengono fatti nei loro figli, soprattutto se extracurricolari. La scuola deve ritornare ad essere un'agenzia che in qualche maniera consente ai bambini e alle bambine di diventare uomini e donne in grado di poter scegliere effettivamente poi quello che effettivamente è per il loro bene. L'ultima battuta che vorrei fare con lei, dottor Coghe, prima di lasciarci, relativa a questa sentenza del Tribunale di Trapani, che in qualche maniera ha a che fare anche con il discorso che lei stava facendo relativo al mondo della scuola. Allora le chiederei un po' di darci una panoramica su quello che è successo e su quello che ovviamente Provite Famiglia chiede. Sì, è successo che è stata resa nota questa sentenza del Tribunale di Trapani per cui un uomo gli è stata attribuito, gli è stata data la possibilità e quindi è stata confermata tramite sentenza, la riattribuzione del sesso. Quindi quest'uomo sarà Emanuela. Il problema è che esiste una legge in Italia per la riattribuzione del sesso ma secondo la legge bisognerebbe passare attraverso interventi chirurgici anche se ultimamente era stata messa da parte anche questa possibilità ma un percorso e anche un trattamento ormonale. Qual è il vero problema di questa legge? Si certifica che un signore, un uomo, una persona nata maschio è una donna senza aver fatto né un intervento né un trattamento ormonale. È come se io vi dicessi signori io non sono Jacopo ma sono una donna. Quindi qui sorgono una serie di problemi problemi anche etici ma anche problemi filosofici. Ad esempio se non c'è necessità né di intervento né di ormone allora ognuno si può in base alla propria percezione definire donna ma allora che cos'è una donna? Che cosa identifica una donna? I genitali non identificano... Secondo questa sentenza i genitali non identificano una donna l'aspetto esterno non identificano una donna gli ormoni non identificano una donna il ruolo sociale non identificano una donna il vestizio non identificano una donna e quindi entriamo in una confusione totale. E questo è a scapito soprattutto dei diritti delle donne perché se tutto è donna allora niente più è donna. Vi faccio solamente qualche flash di qualche esempio di quanto è avvenuto all'estero dove ci sono ad esempio in Sud America dei uomini candidati che non avevano più spazio nelle liste elettorali si sono dichiarati e autopercepiti donne per accedere alle quote rosa. Quindi da donne invece dichiarandosi semplicemente donne hanno avuto accesso e sono stati eletti. Pensate a quello che sta succedendo all'estero e anche in Italia nello sport molto spesso persone transgender quindi uomini che si percepiscono donne partecipano e competono nelle categorie femminili e ovviamente tra chi si percepisce donna quindi una persona come me un uomo alto 1,90 con un certo tipo di muscolatura se va a competere con delle donne per quanto riguarda sollevamento pesi di nuoto, qualsiasi tipo di sport ovviamente avrà la vita più fatta. È come se fosse perdonate il termine se questi uomini si riciclassero un po' perché hanno fallito nelle loro categorie allora percependo che non si è a competere nelle categorie. Ecco, questo è molto importante questo viene chiamato all'estero il self-ID quindi la possibilità attraverso l'autopercezione di cambiare sesso è una deriva che va contrastata che va combattuta perché i sessi sono due è scritto fino all'ultima nostra cellula i nostri cromosomi sono XX e XY potrò fare qualsiasi anche intervento e potrò assumere qualsiasi tipo di ormoni ma siamo uomini e siamo donne e bisogna combattere e difendere la nostra realtà di uomini e di donne. Dottor Koghe allora io la ringrazio per essere stato con noi perché abbiamo anche se solamente dato dei piccoli flash di queste tematiche così importanti ma che impattano come abbiamo avuto modo di ascoltare nella vita di ciascuno di noi e anche in quella dei nostri figli. Grazie per essere stato con noi alla prossima. Grazie a voi buona giornata.